E' uno dei monumenti più fotografati e noti della città di Teramo, un edificio fiabesco, inserito nel tessuto urbano della città, in rovina da molti anni e che tutti i teramani vorrebbero vedere tornare al suo splendore. Parliamo del Castello della Monica, voluto e progettato dall'artista teramano Gennaro della Monica e che fu realizzato tra il 1889 e il 1890. L'edificio principale, che costituisce il castello vero e proprio, fu eretto sul sito dell'antica chiesa di San Venanzio, ridotta dai francesi a polveriera, della quale furono riutilizzati materiali di costruzione ed elementi decorativi. Il Castello della Monica si ispira al gusto neogotico in voga in quel periodo. Un primo e parziale restauro è stato effettuato dopo il 2000 solo nelle stanze interne e poi più nulla. La buona notizia di oggi è che sono stati consegnati finalmente i lavori per il recupero del giardino e dell'area esterna dell'antica casa. Un'opera bloccata da anni che l'amministrazione comunale riesce a recuperare, dichiara in una nota il sindaco Gianguido D'Alberto, si tratta di un tassello per la completa riqualificazione del sito. A questo progetto, così importante per la città, ma anche per la provincia e l'intera regione, si intende dare un'accelerazione rispetto al lungo stallo, anche perché il Castello della Monica rappresenta un unicum, un manufatto di assoluta originalità esistente solo a Teramo. Così, l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari ha aperto i cancelli del giardino alla ditta Point Costruzioni, che avrà 90 giorni a disposizione per concludere la ristrutturazione. Il progetto, approvato dall'Aggiunta Municipale alcuni mesi fa, prevede un importo di 149 mila euro. L'assessore Cavallari, dal canto suo, ricorda che i lavori del giardino si aggiungono a quelli della messa in sicurezza che sono in corso nel corpo del fabbricato. Seguiremo questo recupero con attenzione, assicura Cavallari, per procedere nel pieno rispetto del cronoprogramma e per tornare a godere e fruire di questo edificio monumentale, esempio architettonico-urbanistico straordinario del quale la città di Teramo deve fare vanto e tesoro.